Nuovi appuntamenti nel già fitto calendario del viaggio apostolico nella Repubblica di Corea. Un fuori programma ha caratterizzato il rientro di Papa Francesco a Seoul dopo l'incontro con i giovani asiatici a Daejeon. Prima di raggiungere l'annunziatura, il pontifici ha voluto visitare la Sogang University, Ateneo fondato dalla Compagnia di Gesù nel 1960. Un incontro semplice, familiare, durante il quale Papa Bergoglio ha pronunciato alcune parole a braccio, soffermandosi sul tema della consolazione. Pensando alla Chiesa come a un ospedale da campo, il pontifici ha chiesto a tutti di essere persone che danno pace alla gente e che curano le ferite.